Salve a tutti e bentrovati su Pausa Caffè, prontissimi per una nuova news di gossip che riguarda il grande fratello Vip e in particolare Clizia Incorvaia, perché ci sono state forte critiche subito dopo la foto che lei ha messo con la figlia Nina. La compagna di Paolo Ciavarro ed ex del cantante delle vibrazioni Francesco Sarcina stavolta ha risposto alle critiche piovute sui social come al solito. A spiegare però cosa è successo ci ha pensato la pagina Instagram The People TV ripostata dalla Incorvaia che scrive come Clizia Incorvaia ieri ha vissuto, condividendo tutto sui social, una giornata insieme alla sua primogenita Nina, avuta dall'ex marito Francesco Sarcina. La compagna di Paolo Ciavarro, con cui insieme hanno un figlio Gabriele, nato il 19 febbraio 2022, ha portato la figlia di 7 anni alla sfilata di Mona Lisa a Milano. L'influencer ex vipona del grande fratello VIP, per questo, è stata criticata da alcuni utenti sul web per la semplice scelta di condividere semplicemente immagini del fashion show in cui la bimba è sempre di spalle e col volto coperto. Solo che lei sbotta una cosa del genere perché se lo immagina, no? Dice che è vero, eh, qui succede un casino, no? Fermati! Dice non accetto più intromissioni nella mia vita privata. Alcuni commenti pizzicano Clizia. Allora, un utente gli scrive, se la loro vita pubblica è fatta solo di argomenti riguardanti la vita privata, penso si possa parlare ben poco di altro e del loro personaggio. Questo è il prezzo da pagare quando si diventa famosi. Eh, sì, famosi per il nulla cosmico, però. Ma sono anche altrettanti quelli che la difendono. A stare zitta, poi Clizia proprio non riesce. Così, allora ha deciso di spiegare il motivo per il quale non mostra la bambina. Eh sì, perché si tratta di una scelta fatta di comune accordo, ma non soltanto... cioè, non è che l'ha deciso lei così. Ha parlato anche con il papà della bambina con Sarcina. Allora Clizia cerca di spiegarlo, cerca di dire, lei la vive bene. È una decisione che abbiamo preso insieme a suo papà e a lei. Ed è tranquilla. Anche lei, quando era piccola, la mostravamo con suo papà all'età di Gabriele. Ma non esclude quindi che tra qualche anno lei e Paolo decideranno di non mostrare più neanche Gabriele. Sì, si potrebbe fare anche un passo indietro su queste cose, perché no? La storia d'amore tra Clizia e Sarcina sappiamo che è finita qualche anno fa. E lo scandalo nacque con la rivelazione di Sarcina rilasciata improvvisamente al Corriere della Sera, dicendo, Clizia mi ha tradito con Riccardo Scamarcio. Mi sono sentito... zaccagnato ovunque. Possiamo capirlo? Certo che possiamo capirlo. È stata una botta. Adesso il tempo è passato, le cose con il tempo almeno alcune si dimenticano e vogliamo sperare, vogliamo augurare a loro di comunque andare avanti nel migliore dei modi. Questo è tutto, cari amici, per questa news. Vi ringrazio per l'ascolto. Come sempre ci sentiremo alla prossima.